Ben trovati amici agricoltori a questa nuova puntata di Agrinforma ci siamo spostati siamo in Piemonte nello specifico a Carisio in provincia di Vercelli e ci siamo appunto spostati nell'ottica di questo progetto itinerante davvero molto interessante per mostrarvi i risultati in campo in tutta Italia e quindi in parte a me è un onore essere in compagnia di Sandro Battini direttore commerciale di Icmena Group Italia e quindi siamo qui in un'azienda che spinge la grande beh allora innanzitutto questo progetto itinerante come hai citato tu prima è partito da un anno abbiamo già iniziato a fare diverse parti d'Italia Giupponi è un concessionario Kerneland da oltre 20 anni abbiamo iniziato un progetto molto importante dedicato alla precision farming l'anno scorso abbiamo dedicato riunioni mirate a questo progetto con un centinaio di clienti i risultati ovviamente come facciamo in tutta Italia stanno arrivando alla grande e quindi abbiamo la possibilità di toccare con mano tutto quello che noi predichiamo da ormai 4 o 5 anni è ovvio che dobbiamo farlo vedere non solo a Mantova, Cremona, Brescia o Verona ma il progetto nasce perché tutta Italia sappia che abbiamo della tecnologia da mettere sul campo e che poi fa tornare i conti e quindi il ritorno degli investimenti del nostro amico agricoltore sarà sicuramente assicurato quindi non è vero che spendere o investire mille euro in più in una macchina poi lo vedremo dalla testimonianza porta sempre ad avere risultati li porta solo se tu scegli la macchina giusta Cernaland ha sempre puntato su quello il bene dell'agricoltore non conta investire qualcosa in più conta che ci sia un ritorno mirato dell'investimento che uno fa e la tecnologia la vediamo già alle nostre spalle la tecnologia alle nostre spalle questa è un'area prettamente vocata al CL quindi alla macchina media che Cernaland presenta due anni fa all'Eima adesso è già nata una declinazione di questo modello ancora più performante però diciamo che qui come area il Piemonte il CL è la macchina che noi pensiamo sia più più ideale insomma per le pezzature delle aziende ovvio che c'è il fratello maggiore che è il TL che è in grado di gestire metrature oltre i 50 metri 24 sezioni questo ne fa 14 però diciamo che per quello che serve in quest'area è già molto molto performante la tecnologia è sempre la stessa tecnologia identica le quattro celle di pesatura sono uguali a quelle che montiamo sulla macchina più grande la gestione monitor e monitoristica in generale compreso le licenze compreso il sistema gps è identico non cambia nulla l'operatore può lavorare con uno con l'altro nello stesso modo è evidente che cambiano le metrature perché cambiano le dimensioni della macchina bene allora diamo subito il benvenuto al nostro ospite di questa giornata è Giuseppe Carnevale Giampaolo di un'azienda agricola non troppo vicino giusto? Noi siamo in provincia di Pavia siamo a Cozzo quasi sul confine col Piemonte però in Lombardia e quindi fate riso giusto? Prettamente riso la nostra è un'azienda di circa 250 ettari e abbiamo appunto voluto prendere questo spandiconcime Geospred per la precisione e per la capacità di esaltare i nostri raccolti ecco perché già avevate un'attrezzatura simile sempre con pesa appunto però cosa è successo? è successo che non era precisa per cui alla fine si iniziava la giornata con un quantitativo e si finiva la sera con un altro tipo di quantitativo distribuito e questo è andato a penalizzare i nostri raccolti mentre da quest'anno il Geospred è completamente diverso oltre a essere molto semplice e questo all'inizio sembrava il contrario mentre la macchina è molto semplice ed è molto precisa si inizia con un quantitativo e si finisce con quello e quindi avete già riscontrato dei benefici? Visivamente già i raccolti di quest'anno si vede che sono completamente diversi pur avendo usato lo stesso quantitativo di concime ma distribuito in un modo completamente diverso ecco qua è importante perché insomma è l'ottimizzazione dei costi quindi avere proprio risultato preciso senza sorprese a fine campagna esatto anche perché il riso è un cereale che le diversità di distribuzione gli accavallamenti le nota subito con malattia per cui con una diminuzione di produzione che poi voi tra l'altro producete sette varietà si noi produciamo anche appunto varietà molto sensibili vedi Carnaroli vedi Baldo, Vialone Nano che sono risi che sono molto ma molto sensibili alla concimazione basta un piccolo errore per la produzione e la qualità del prodotto diminuire in modo drastico e poi è singolare perché voi seminate in asciutta lavorando con minima lavorazione esatto e quello comporta anche esaltare molto la macchina perché si lavora in condizioni perfette perché lavorando prima in asciutta e per cui concevando con gomme e poi con le ultime concevazioni di copertura fatte appunto con le normali ruote in ferro la macchina al massimo della resa. Certo e tra l'altro voi anche come mappature del terreno vi siete trovati bene giusto? Benissimo benissimo perché noi avevamo già i terreni mappati e la macchina non è andata nient'altro che a riscontrare la stessa mappatura che noi avevamo già per cui molto ma molto precisa. E poi so che avete intenzione nelle prossime future di fare mappature di produzione. Sì più che altro di arrivare ad avere una variabilità nella distribuzione cioè di riuscire a prendere le mappe di produzione della metitrebbia e di rottarle sullo spandiconcino. E già con queste attrezzature è possibile? Certamente. Bene allora l'ultimo consiglio da dare agli amici che ci stanno seguendo da casa? Che è una macchina molto precisa e molto semplice anche se sembra il contrario. E che ritorni dall'investimento? Sicuramente quello è in dubbio e ritorna prima di quello che uno può prevedere. Ecco queste insomma Sandro Battini sono però le importanti che vanno comunque a confermare tutto quello che diciamo in ogni puntata. Per noi è normale amministrazione però sentirle dire da chi lo utilizza non è la stessa cosa e tutti i nostri amici agricoltori che stanno sentendo parole di professionisti come è il signor Carnevale credo che debbano prendere molto molto spunto. Una cosa che vorrei sottolineare è che si fa fatica ovviamente a spiegare in così pochi minuti è il fatto come diceva lui che sia un paragone con due macchine che nascono per fare la stessa cosa. Una dice ho una macchina compesa l'altro ho un'altra macchina compesa ma il fatto di avere una cella o quattro celle determina tantissimo in precisione la testimonianza è questa qua. L'altra grande cosa è che l'avere inventato l'isocompatibilità ci rende molto molto più preparati rispetto ad altri competitor perché nell'utilizzo noi siamo molto molto più dinamici e più semplici. Spesso e volentieri altri competitor hanno l'obbligo di utilizzare monitor che arrivano da altri fornitori che hanno tecnologie leggermente diverse per ogni tipologia di macchina che decidono di vendere quindi diventa molto difficile per operatori imparare o anche se ci sono dipendenti far imparare diverse tipologie di elettronica. Quindi noi qui siamo molto molto dinamici nel momento in cui attacchiamo una spina in automatico il sistema riconosce l'attrezzo che tu hai attaccato in automatico appare sul video un'immagine ma tutte le funzioni che regolano poi ogni singolo attrezzo sono identiche pertanto l'operatore imparandone una ha già imparato le altre cinque le altre sei o le altre dieci quindi questa è la grandissima forza di Quello. E quindi Sandro Battini ha parlato di questa semplicità di utilizzo dell'attrezzatura e Giuseppe mi raccontavi che a questo punto l'hai toccato con mano anche tu con i tuoi dipendenti. Esatto avendo degli operai si cerca di dargli una macchina semplice all'inizio la paura era quella che fosse complicata invece è la di una semplicità esagerata alla fine basta inserire i parametri velocità quantitativo e poi la macchina alla fine fa tutto da sola. Lavora da sola perfetto basta uno che guidi il trattore e basta non c'è nient'altro da fare che usare un trattore e girare nel campo. E quindi insomma la tecnologia qui deve proprio aiutarci perché la precisione pur mantenendo la precisione massima fatto è quello. E tra l'altro insomma mi raccontavi sempre quel confronto con le altre attrezzature sempre dal punto di vista del concime voi ne utilizzate uno particolare e avete visto dei benefici. Certo noi utilizziamo in copertura nelle risaie del concime composto da urea più cloropotassico e ha la difficoltà in periodo estivo di tendere a liquefare. Con lo spandiconcime che avevamo prima questo portava appunto delle conseguenze di otturare la discesa e non favorire la distribuzione. Con questo alla fine non si è verificato tutto questo, la macchina funziona perfettamente con una distribuzione come ripeto eccezionale. Quindi insomma il governo Elanda è da sposare? Sì, 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 da sposare e un matrimonio che dura per tanti anni. Insomma qua le basi ci sono per un matrimonio a lieto fine. Sono orgogliosissimo di sentire parole del genere da chi utilizza come ho detto prima le macchine perché ripeto predicare basta conta poco, alla fine dobbiamo essere creduti coi fatti. Cito una cosa, quando prima parlava di precisione dobbiamo anche sottolineare il fatto che questa è l'unica macchina che riesce a sezionare micro sezioni appunto da due metri. Quindi esaspera tantissimo il risparmio del concime. Tant'è che Kvernaland inventa una app che si chiama Ime Calculator che si declina in concime di serbo e semine dove l'agricoltore può prima di fare un acquisto, proprio per rendersi conto, anche proprio manualmente parametrare la sua azienda con appunto tutte le videate che appaiono in questo Ime Calculator, simulare quanto sta spendendo con una macchina per poi trasformare lo stesso lavoro con un GeoSpec per esempio o una macchina con pesa di Kvernaland e da lì inizia subito a vedere che ci sono risparmi che vanno dal 10 al 20%, la media è un 15 e quindi il 15 su cifre voi pensate di 40 o 50 mila euro di concime che un'azienda come la nostra che abbiamo citato poco fa di 250 euro in veste all'anno e il 15 di 50 mila sono 7.500, 8.000 o 10.000 euro a seconda del concime che uno risparmia. In un anno e mezzo la macchina è ammortizzata abbondantemente ma non vado poi nel sottolineare come dicevo prima la qualità poi del raccolto perché qui stiamo semplicemente esasperando il risparmio di concime che un'azienda può avere subito però teniamo presente che quando una cosa è fatta bene si esaspera anche probabilmente la produzione in sé quindi a maggior ragione spesso e volentieri è capitato che questo investimento venisse coperto totalmente nell'arco di una sola stagione aziende medie quindi questo ce la dice lunga sul dove la meccanizzazione agricola sta andando e su dove l'agricoltore sta mirando. E insomma qui abbiamo la sorella minore ma nella prossima puntata vedremo la sorella maggiore. Lì è il massimo dell'esasperazione perché se uno ha anche ettari e vuole fare metrature e il diserbo che è molto legato al concime quindi la metratura delle barre è di un certo tipo col TL a maggior ragione esasperiamo tutto. Quindi allora io ringrazio Sandro Battini direttore commerciale di Comea Gruppo Italia. Grazie a voi. Grazie mille quindi Giuseppe avanti tutta. Avanti tutta. E miei circoltori non perdetevi quindi la prossima puntata di Agriinforma perché parleremo ancora di concime ma allargheremo le dimensioni sempre con la stessa tecnologia. Quindi buona domenica a tutti e arrivederci alla prossima puntata di Agriinforma.